Musica Buongiorno e bentrovati, prima edizione di Oratg che apriamo con la cronaca. Andiamo a Palermo dove un uomo di 77 anni è stato trovato morto, schiacciato da un armadio all'interno di una stanza di un BMW. Quindi sulla vicenda indaga la polizia mentre la procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano. Ci dice tutto Luca Licata. Il titolare del BMW ha bussato più volte alla porta della stanza. L'uomo non rispondeva. Ad un certo punto preoccupato, il gestore ha deciso di entrare temendo fosse successo qualcosa. Quando ha aperto la porta si è trovato davanti una scena terribile. Il cliente che aveva preso in affitto la camera era morto. Si trovava schiacciato sotto l'armadio della stanza. L'uomo deceduto in circostanze ancora da chiarire si chiamava Giuseppe Filippone. Era palermitano, aveva 77 anni. Era invenuto il corpo della vittima. Il titolare ha lanciato l'allarme, chiamato il 118, e avvertito le forze dell'ordine. Nell'arco di pochi minuti è giunta sul posto un'ambulanza e due squadre dei vigili del fuoco che hanno sollevato il pesante mobile sotto il quale era rimasto schiacciato l'anziano signore. Per lui non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Nel frattempo, nella struttura, sono sopraggiunte diverse volanti della polizia. Gli investigatori hanno ascoltato il titolare del BNB ed eseguito i rilievi nel tentativo di chiarire le circostanze della morte del 77enne. La vittima, che risiede in città, aveva preso la stanza del BNB la mattina. Poi, come ha riferito lo stesso gestore alle forze dell'ordine, di lui non si avrebbero avuto notizie fino a sera. La tragedia è accaduta ieri in via Santa Rosalia, traversa di via Roma, poco distante dalla stazione centrale di Palermo. La struttura ricettiva si trova al terzo piano di questo palazzo. L'insegna del bed and breakfast è senza nome sia fuori dallo stabile sia al piano. I contorni della vicenda al momento non sono chiari. La polizia ha avviato le indagini. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo necessaria per ricostruire la dinamica degli eventi e le cause del decesso. Al termine dell'ispezione, la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, dove verrà effettuato l'esame autoptico. Dalle prime informazioni, dai primi rilievi, sembra che l'anziano signore si trovasse da solo in stanza. Bisognerà comunque verificare se l'uomo non avesse ricevuto qualcuno. Fondamentale inoltre è capire perché l'armadio gli sia finito di sopra. Gli investigatori dovranno inoltre accertare se l'uomo sia deceduto prima, magari a causa di un malore. E per evitare la caduta, è una delle ipotesi, potrebbe essersi appoggiato al mobile finendo per trascinarlo sopra di sé. Un'autopsia sarà eseguita domani sul corpo di Chiara Adorno, la giovane studentessa che ricorderete è stata uccisa travolta nei pressi della cittadella universitaria a Catania. È stata investita da uno scooter e un'autovettura. Intanto sono indagati i conducenti dei due mezzi. Occorre maggiore educazione stradale, affermano i tassisti, i professionisti della strada. Sono due le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Catania come atto dovuto per la morte. Di Chiara Adorno, la studentessa universitaria di 18 anni travolta da uno scooter e da un'autovettura la sera del 7 novembre scorso, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonari nell'area della circonvallazione praticamente antistante alla cittadella universitaria. Si tratta dei conducenti dei due mezzi, lo scooterista e chi era la guida della Fiat Punto, a cui sono stati già notificati gli avvisi di garanzia. Domani intanto verrà eseguita l'autopsia a seguito del conferimento dell'incarico al professore Pomara, perito della Procura di Catania. Si proverà così a chiarire anche la dinamica del fatto, sebbene la polizia locale abbia già acquisito le immagini delle videocamere posizionate in zona e sequestrato i due mezzi e i cellulari dei due indagati. L'inchiesta è coordinata dai sostituti Fabio Scavone e Fabio Platania, mentre la famiglia è assistita dal professore Giovanni Grasso. Sempre domani, dopo l'esame autoptico, la salma sarà riconsegnata ai familiari per le esegue che si svolgeranno a Solarino. A Catania intanto monta il dibattito sugli accorgimenti da introdurre con immediatezza, si spera, per aumentare gli standard di sicurezza sulla circonvallazione, il ponte sopraelevato, uno sottopassaggio, gli autovelox. E poi c'è chi sta sulla strada 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, i tassisti, che auspicano maggiore educazione. E non certo solo sulla circonvallazione, anzi. Sicuramente a Catania, come in tutte le grandi città, ci sono delle strade che sono maggiormente soggette alla pericolosità, soprattutto anche per i pedoni, come il caso eclatante che è successo pochi giorni fa. Diciamo che via Altaragoni, lungomare, soprattutto nelle ore notturne, la circonvallazione, ma anche il viale, ma le ripisardi sono strade che sono soggette a più incidenti. Perché nelle ore notturne si è permesso un po' più di alta velocità, perché c'è meno controllo da parte delle forze dell'ordine, ma non per questo che vengono fatte sistematicamente dai vigili urbani di Catania, dalla polizia e tutto. Però è chiaro che, diciamo, si deve partire, secondo me, da una cosa importante, che è l'educazione stradale. Perché se non partiamo da quella, dalla base di tutto, noi possiamo mettere i rallentatori, la circonvallazione, gli autovelox. Questi sono mezzi che aiuteranno sicuramente a evitare questi eventi tragici. Però l'educazione, soprattutto nei giovani, questa è importante. Diciamo che la velocità è uno degli elementi forse più importanti, però mi lascia dire anche l'uso improprio del cellulare, che distrae molto la guida, gli automobilisti, quello incita anche parecchio. Perché oggi arrivano telefonate, messaggi e stiamo subito lì a rispondere, a vedere chi ha chiamato. Con tutto che oggi la tecnologia ci permette comunque in auto di evitare tutto ciò. Ancora cronaca, non dichiara guadagni per 11 milioni e 700 mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto una ditta individuale nel commercio online di prodotti di telefonia, che tra il 2017 e il 2018 aveva totalizzato ricavi mai dichiarati appunto per 11 milioni e 700 mila euro. Il titolare dell'impresa, secondo le indagini delle fiamme gialle, per sfuggire al fisco, aveva chiuso l'attività nei primi mesi del 2019. Il commerciante è stato denunciato per aver nascosto le scritture contabili pur di impedire la ricostruzione dei profitti e per avere vaso imposte rispetto a quanto infedelmente dichiarato. E invece a Gela, beni per circa 2 milioni di euro, due aziende ed un rapporto finanziario, sono stati confiscati ad un imprenditore locale operante nel settore ortofrutticolo, già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Ritenuto un personaggio di spicco della criminalità locale, l'uomo, è destinatario di una misura cautelare personale e imputato per trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta, su proposta del Procuratore di Gela e del Direzione Investigativa Antimafia, ed eseguito dalla stessa DIA. I finanzieri invece del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito dell'intensificazione delle attività volte al contrasto alle frodi nel settore delle accise, hanno sequestrato presso un distributore di carburanti di jarre un serbatoio contenente oltre 2.600 litri di gasolio e di diesel destinato all'autotrazione, le quattro colonnine di rifornimento e le relative otto pompe di erogazione adesso collegate. In seguito alla raccolta di campioni di prodotti, i militari della compagnia di riposto hanno condotto un'analisi sulla miscela e i risultati hanno rivelato che il gasolio non era conforme ai requisiti specifici previsti dalla normativa in termini di sicurezza e qualità del prodotto. In particolare la non conformità era dovuta al punto di infiammabilità della miscela, il cui valore rilevato, 45 gradi, era inferiore ai 55 previsti. Cambiamo argomento, hanno bloccato il traffico in Corsi Italia a Catania e imbrattato la monumentale fontana di Piazza Verga, che è l'ultima eclatante protesta degli attivisti di ultima generazione che protestano per la crisi climatica e la politica attuata nei confronti del fenomeno migratorio. Una protesta fragorosa quella messa in atto stamattina dagli attivisti di ultima generazione che in pieno centro a Catania e in Corsi Italia hanno prima bloccato il traffico, quindi imbrattato di rosso la fontana dei Malavoglia. Secondo i manifestanti l'iniziativa ha avuto lo scopo di accendere riflettori sulla crisi climatica in corso che amplifiche i fenomeni migratori a causa della desertificazione di vari territori, problematiche che investono anche la Sicilia, come evidenziato dall'emergenza incendi della scorsa estate. I manifestanti si sono anche legati tra loro con una catena di metallo, rotta successivamente dalle forze dell'ordine, che hanno ordinato lo sgombero della carreggiata. Abbiamo svolto un'azione appunto di un lanciato della vernice rossa, come se fosse il sangue delle persone che muoiono in mare, che il nostro governo non si sta prendendo la responsabilità rispetto a loro, non le considera minimamente, le rinchiude i centri di detenzione per mesi. Questo è assurdo, perché queste persone stanno stappando da situazioni che anche noi abbiamo collaborato a creare. Storia a lieto fine per Ciccino, lo vedete nelle immagini alle mie spalle, un piccolo chihuahua di un anno di età salvato dalla pattuglia dei carabinieri alle prime luci dell'alba, un equipaggio del nucleo radiomobile di Catania, scorto una vecchia coupé fermata ai margini della carreggiata, della circonvallazione, avvicinatisi per verificare se l'auto fosse rubata. I militari hanno scoperto all'interno, chiuso nel sedire passeggero, un piccolo cane, appunto Ciccino, tremante per il freddo della nottata e per la paura. I carabinieri sono subito riusciti a liberare il cagnolino, che è stato visitato sul posto da un soccorritore veterinario, fortunatamente giudicato in buono stato di salute, anche se molto impaurito. Naturalmente il veicolo non era oggetto di furto, per cui sono state subito avviate le ricerche per intracciarne il proprietario, che poi è stato individuato, è un sessantenne del posto che abita a pochi metri di distanza. L'uomo è stato ritrovato a casa propria, dove in stato confusionale ha riferito che due o tre ore prima era rimasto senza benzina e si era quindi pertanto allontanato a piedi dalla vettura, con l'intenzione però di tornare a riprenderla dopo, lasciando comunque il piccolo cagnolino a guardia del mezzo. Il cane è stato temporaneamente ricoverato in un canile per consentire alle autorità preposte di verificare se il padrone accompagnato in ospedale per gli opportuni accertamenti fosse o meno in grado di accudirlo e dargli il giusto affetto. Cambiamo decisamente argomento. Le nuove frontiere dei pannelli sonari a Pereschite, nello studio del dottor Salvatore Valastro, 31enne, un accese vincitore della terza edizione del premio riservato alle innovazioni nel campo della ricerca applicata. Lo abbiamo incontrato al CNR di Catania con Salvo Cutuli. La Pereschite, nuova frontiera dalla ricerca applicata al fotovoltaico, ha in questo giovane accese di 31 anni, Salvatore Valastro, un faro nella ricerca scientifica di settore premiato alla terza edizione del premio Giovani Ricercatori con meno di sette anni di attività dalla fine del dottorato. Unico riconoscimento da Roma in giù del gruppo 2003, programma finanziato dall'Unione Europea con fondi veicolate attraverso i PNRR del programma denominato Samo Trace. Il giovane scienziato, le cui ricerche sono state evidenziate dai giornali nazionali ed internazionali, quasi del tutto sconosciuto dalla stampa siciliana, vanta pubblicazione su riviste specializzate di spessore mondiale nel campo della ricerca scientifica applicata alle nuove tecnologie nel campo dei ponnelli fotovoltaici, ha pereschite una componente innovativa sotto il profilo delle applicazioni con altissime incidenze inquinanti, essendo a base di piombo il cui eventuale rilascio in natura comporterebbe la diffusione di inquinamento ambientale. E' qui che interviene lo scienziato acese, il quale ha sviluppato delle spugne assorbenti che riducono del 90% le emissioni in natura in caso di degrado. Lavoro condotto in collaborazione con il professore Miyasaka dell'Università Toindio Kohama. Il padre di questa tecnologia, non in antitesi con il silicio, ma con una più vasta gamma di realizzazione, per esempio nelle coperture di serre, grazie alla malleabilità in cui sviluppa energia solare e consente il passaggio dei raggi solari per le colture. Nel laboratorio del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania, Trento Renacese ha sviluppato un interessante e riconosciuto progetto di riduzione della componente inquinante, meritandosi riconoscimento e il plauso della scienza mondiale. La pereschite è oggetto di studio avanzato in Cina come in Giappone, eppure alla vera innovazione arrivata dalla ricerca effettuata da questo giovane ricercatore in questo laboratorio a piede dell'Etna, dove lavora e sviluppa le sue idee incoraggiato dalla responsabile del progetto pereschite del CNR, Alessandra Alberti. All'Istituto di Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche è andato questo premio molto prestigioso che è stato assegnato qualche giorno fa. Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti a livello internazionale che hanno ritenuto molto valida la ricerca che si svolge qui a Catania presso il nostro istituto. è stato l'unico premio assegnato per il tema energia ed è stato l'unico premio tra i tanti, quindi salute, ambiente, clima, che è stato assegnato da Roma in giù. Quindi siamo molto orgogliosi di aver portato a casa questo risultato. Il nostro giovane ricercatore Salvatore Valastro è stato premiato dal manager di Enel Foundation proprio per la valenza di questa attività, di questa ricerca, perché come dice un po' la motivazione del premio è riuscito a coniugare la tecnologia, quindi l'innovazione, con anche l'aspetto ambientale, quindi la sostenibilità di quello che si propone, delle nuove tecnologie che mi sembra appunto doveroso. Al CNR di Catania nel laboratorio operano tutti i giovani ricercatori, età media, 30 anni, orgoglio della Sicilia che attraverso lo studio e la ricerca modernizza. Valastro, conseguita la laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio, ovviamente collode, superato il dottorato in scienze di materiale e nanotecnologie, da due anni lavora per l'INM, istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR con specifica applicazione, celle fotovoltaiche in pereschite, aggiudicandosi il premio. 543 candidature, solo 10 i premi assegnati. Valastro figure negli elenchi dei ricercatori più citati al mondo nella letteratura scientifica. La peculiarità di questa tecnologia è che la peroschite è semitrasparente, quindi sostanzialmente si può applicare in tantissimi ambiti in cui il silicio non è ottimale, in quanto è opaco, cioè non fa passare la luce solare. Quindi la peroschite sostanzialmente si può applicare per esempio nell'agrivoltaico, quindi immaginando in delle serre, con il tetto ricoperto da celle solare peroschite, la cella solare peroschite assorbe la luce, la converte in energia elettrica e fa passare la luce solare per la vita delle piante e delle colture. Quindi questa è una possibile applicazione. L'altra applicazione è anche in alleanza con il silicio, in quanto mettendo una cella peroschite sopra una cella al silicio è possibile incrementare l'efficienza del pannello solare dal 26% della cella singola, fino all'attuale record che è il 33,9%, che può sembrare poco, ma se immaginiamo impianti dell'ordine dei gigawatt è una gran quantità di energia. Amministratori pubblici, parlamentari, rappresentanti delle associazioni civiche, ma anche studenti e cittadini comuni in migliaia hanno partecipato questa mattina alla manifestazione in difesa dell'ospedale di Sciacca, nell'Agrigentino, promossa da 19 sindaci dell'Interland dal locale Comitato Civico per la Sanità. Un corteo si è snodato dalla piazza Saverio Friscia fino a Piazza Angelo Scandaliato, dove ci sono stati gli interventi conclusivi. occorre, ha detto il portavoce del Comitato Ignazio Cucchiara, che il riconoscimento di idea di primo livello ottenuto nel 2019 diventi concreto. Al momento non è così e questo è inaccettabile. Le potenzialità del nostro ospedale sono grandi e dobbiamo pretendere che vengano rispettate. Sono orgoglioso, ha aggiunto Fabio Termine, sindaco di Sciacca, di vedere tutta questa gente che chiede solo che il Giovanni Paolo II offra tutti quei servizi che lo rendono un punto di riferimento di un'intera comunità. Recentemente, per mancanza di medici, ricordiamo, è stato chiuso il reparto di ortopedia. E voltiamo pagina. No alla manovra finanziaria. La Sicilia scenderà in piazza il prossimo 20 novembre, oggi intanto a Catania. L'attivo sindacale congiunto di CGL e UIL. Cerchiata in rosso, anzi in blu, la manovra economica del governo Meloni in fase di approvazione mobilita ai sindacati, no alle politiche economiche e sociali individuate dal governo, che secondo le organizzazioni sindacali alla fine penalizzerebbero sempre i più deboli. Sì a una equità fiscale che abbia regole condivise e meglio distribuite tra le varie fasce della popolazione. Cambiare questa manovra, così come le politiche economiche. La Sicilia scenderà in piazza il prossimo 20 novembre, così come da mobilitazione su scala nazionale messa in campo da CGL e UIL, con scioperi di otto ore e manifestazioni su base territoriale e regionale. In vista dello sciopero del 20 novembre, oggi a Catania è l'attivo congiunto di CGL e UIL, manovra che va cambiata anche per Catania. E' chiaro che penalizza questa riforma non solo quelle caste che hanno bisogno di avere ovviamente una valvola di sfogo e pertanto un reddito pro capite più alto, ma anche il mezzogiorno. E voglio ricordare che anche il PNRR, che poteva essere un'opportunità, non solo per la nostra regione, ma anche e soprattutto per la nostra provincia, anche il PNRR è stato tagliato. Quali le proposte di CGL? Le proposte di CGL sono quelle di fare una riforma fiscale equa per tutti, le risorse ci sono, basterebbe praticamente andarle a cercare non solo sull'evasione fiscale, ma anche sugli extraprofitti. E' chiaro che le nostre proposte sono sempre quelle di andare in pensione o in un'età accettabile, soprattutto per quei lavoratori che ovviamente fanno un lavoro usurante. Ed è chiaro che come organizzazioni sindacali rivendichiamo una legge finanziaria che dia effettivamente risposte a quei soggetti che oggi sono veramente in sofferenza. Una manovra che, secondo i sindacati, potrebbe essere economicamente depressiva per le famiglie? La manovra va cambiata perché è iniqua e la manovra va cambiata perché il governo deve ascoltare quello che chiedono le parti sociali. Stiamo parlando dei segretari confederali che rappresentano un grande numero di lavoratori. Purtroppo questo è un governo che non ascolta e chi non ascolta il dialogo sbaglia sempre. Quali le proposte della Will? Le proposte della Will sono state già presentate ma presentate senza essere prese in considerazione. Noi parliamo di lavoratori che hanno bisogno quindi quota 103 che non è più quota 103 l'abbiamo vista. Non soddisfa i bisogni delle famiglie e di chi sta male. Addirittura il reddito di cittadinanza è stato abolito completamente mentre andava riformato per chi sta male perché non è giusto pagare persone che stiano a casa. Però chi non può lavorare o non è in grado di lavorare o non trova lavoro un sostegno ci deve essere. E la struttura di torre del Grifo Village finisce all'asta nel vecchio quartier generale del fallito calcio Catania ricadente nel comune di Masca Lucia potrà quindi essere assegnato ad un nuovo proprietario. Il centro sportivo è rimasto abbandonato dopo la chiusura delle attività avvenuta più di un anno fa. A darle notizia il quotidiano di Sicilia il complesso immobiliare risulta in vendita sul portale delle aste telematiche che comprende un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte area parcheggio quattro campi da calcio un resort tre suite e una sala meeting. Il prezzo base è fissato a 28 milioni 940 mila euro. Il termine ultimo per l'invio delle proposte di acquisto è per le ore 15 e 30 del 10 gennaio 2024. Il giorno seguente sempre alla stessa ora si procederà poi all'apertura delle buste e all'esame delle offerte pervenute. Adesso andiamo a scuola. I colori che si uniscono ai sapori chiude i battenti. La festa d'autunno 2023 ideata dall'Istituto Tecnico Agrario Eredia di Catania. A fine della manifestazione l'invito e il monito è uno tornare alla terra tornare alle coltivazioni di fonte di benessere e di economia green. Mario Grasso. La ricchezza sta in campagna e non è vero che in autunno i colori non accendano i sapori dei frutti della terra. Ad ascoltare i nonni non si sbaglia mai ed è un ritorno al passato ma proiettato nel futuro. La festa d'autunno 2023 promossa dall'Istituto Eredia istituzione superiore che vanta una storia più che centenaria e che ha nella viticoltura nella enologia e nella cura delle produzioni della terra anche attraverso le diverse trasformazioni il cuore del piano di studi un cuore ricco palpitante economicamente valido green che lega storie e tradizioni e che grazie alla festa d'autunno si mette in mostra attraverso i diversi convegni che si sono susseguiti in un'altra giornata particolarmente intensa ma anche per mezzo delle dimostrazioni pratiche che poi sono tipiche della Sicilia il vino i prodotti tipici il ricco gusto isolano il nostro autunno è un autunno pieno di colori di sapori di sensazioni anche odori perché no anche se ultimamente con i cambiamenti climatici un po' si stiamo abituando a vedere slittare sempre di più la stagionalità noi abbiamo voluto invece mantenere viva la tradizione e la cultura dell'autunno così come in linea con quanto fatto anche negli anni passati noi la festa dell'autunno l'abbiamo sempre concentrata in questo periodo dell'anno che cade quasi a cavallo nelle prossimità della festa di San Martino è il periodo in cui si fa una programmazione invernale programmazione anche agraria proprio perché si si fa il mosto si aprono si imbottiglia si aprono i vini si consumano e si lega il tutto anche a una enogastronomia tipica nostra dei luoghi che è quello che privilegia alimenti e cibi autunnali quale castagne quale anche i frutti insomma secchi e le zucche noi proprio in questo istituto che è a vocazione agraria ed enogastronomica abbiamo voluto legare questo periodo dell'anno anche alla formazione dei nostri studenti tant'è che abbiamo invitato in queste tre giorni di festa d'autunno il Dipartimento di Scienze Agrarie abbiamo invitato il CNR anche l'ESA per incontrare i nostri ragazzi e parlare loro anche di tecnicamente dello sviluppo dell'agricoltura in questo particolare settore oggi a chiusura della tre giorni la degustazione dei vini la consegna dei vini al parco dell'Etna ma anche la visita degli studenti delle scuole medie affinché si accostino ad un non mondo quello dell'istituto agrario attualissimo e ricco di sbocchi allora i giovani si accostano in maniera diversa perché non hanno vissuto in prima persona questa tradizione insomma agraria e anche alimentare gastronomica per cui imparano e per fortuna che i nostri docenti hanno conservato le modalità e anche le tradizioni passate e cerchiamo di trasmetterle nonostante insomma i tempi ormai insomma diversi per recuperare queste tradizioni perché oggi c'è un ritorno al passato e ci siamo resi conto che l'accelerazione verso il futuro verso il digitale non risolve tanti i nostri problemi quanto invece il tornare alla terra il tornare alla sana cucina alla sana alimentazione senza altro questo invece è di grande aiuto per la pagina dello sport sono ben 21 le nazioni che partecipano alla tappa catanese del campionato mondiale di surf casting sulla sabbia della playa a sfidarsi circa 200 atleti ci dice tutto Francesco Larosa Catania e tappa in questi giorni del 39esimo campionato mondiale di surf casting maschile e del 30esimo campionato mondiale della stessa disciplina al femminile l'evento organizzato dalla federazione italiana pesca sportiva e attività subacque si svolge sulla battigia della playa con base alle palme beach club presenti circa 200 atleti in rappresentanza di 21 nazioni la giornata praticamente estiva ha fatto da splendido palcoscenico per lo svolgimento della gara lungo i 4 chilometri di spiaggia selezionati questo evento è la prima volta che viene ospitato qua sotto in Sicilia al sud quest'anno abbiamo avuto la fortuna di ospitare 22 nazioni è la prima volta che un campionato del mondo di surf casting maschile e femminile raggiunga così tante nazioni partecipanti sono stati 5 giorni impegnativi 5 giorni che hanno visto gli atleti impegnati in diverse spiagge sia del catanese che del messinese oggi è l'ultima tappa ancora non siamo in grado di capire chi arriverà al podio perché comunque le difficoltà e la peculiarità delle nostre spiagge non ha dato ancora un esito ben definito quindi fino all'ultimo c'è la possibilità di ribaltoni dell'ultimo momento tenevo a precisare che la nostra disciplina proprio pesca sportiva è chiamata tale perché comunque il pesce viene pescato viene misurato viene rilasciato di nuovo in acqua e poi attraverso la misurazione con delle tabelle di conversione si dà un punteggio finale io sono felicissimo di avere insieme alla sezione provinciale di Messina e quella di Caltanissetta organizzato grazie alla nostra federazione che è la Fipsas questo campionato del mondo e anche questo è un modo per promuovere una forma di turismo stagionalizzato cioè in una stagione che è in novembre considerata in questo temperatura da sogno soprattutto per la maggior parte dei paesi che sono nel nord d'Europa avendo una struttura che ci permette di operare tutto l'anno siamo sempre contenti di ospitare manifestazioni come queste ma come tante altre anche a livello mondiale di rendere fruibile a tutti coloro che vogliono accedere alla struttura e alla spiaggia naturalmente la possibilità di farlo è un momento anche di valorizzazione del nostro territorio anche grazie alle attività sportive con atleti che arrivano da ogni dove sì è una bellissima vetrina perché naturalmente ci dà la possibilità di far capire che qui sulla costa è possibile fare questo e tanto altro alla playa una bandiera verde quindi dà questo tipo di particolarità di svolgere attività sportive attività anche dilettantistiche e anche tempo libero e parliamo adesso della nostra programmazione seconda puntata questa sera su re tv della rubrica di approfondimento medico scientifico medicina e innovazione a cura del dottor Riccardo Castro per la regia di Paolo Coco si parlerà di lesioni delle corde vocali solitamente di tipo benigno ma è importante non sottovalutarle in caso di lesioni maligne la diagnosi precoce è fondamentale e di diagnosi appunto cura e prevenzione della patologia si parlerà questa sera in studio con il dottor Rocco Cipri direttore unità operativa complessa di otorino la ringoiatria nel presidio ospedaliero Santa Marte e Santa Venera di Acireale appuntamento dunque questa sera alle 21.30 su re tv con medicina e innovazione in replica domenica alle 21 e mercoledì alle 22 e noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma non abbiamo ancora finito vi aspetto di nuovo studio nessuna ultimissima dalla redazione dunque vediamo insieme che tempo farà domani le previsioni meteo di domani sabato 11 novembre in Sicilia la pressione in aumento porterà a condizioni generali di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio i venti saranno moderati i mari calmi le temperature rimarranno stabili con massime fino a 24 gradi a Siracusa 1 in meno 23 a Catania la minima più bassa si registrerà ad Enna con 7 gradi ebbene dopo il meteo è tutto si conclude qui questa prima edizione in diretta di Oratg ma la nostra informazione vi ricordo torna puntuale questa sera alle 19.45 grazie per averci preferito un buon pomeriggio a tutti voi a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti